E questo è il suo disco, la sua ultima produzione in esclusiva, con le mani come Johnny. E tutti gli storici italiani dal 12 agosto, la produzione di Giambi di Giambi, si chiama Kaiser Dropa. E questo è il suo disco, e questo è il suo disco, e questo è il suo disco. Grazie.